Benvenuti al nuovo appuntamento del TGLIS del Consiglio regionale della Basilicata. In Basilicata la riduzione delle prestazioni connesse alla prevenzione e alla cura delle patologie tumorali negli ultimi due anni a causa del Covid è stata particolarmente severa. Lo sostiene il consigliere della Lega Viziello che aggiunge in Italia si stima siano più di 3.500 i casi di tumore al seno non individuati per effetto degli screening della mammella non effettuati tra gennaio 2020 e maggio 2021. Recuperare gli screening in oncologia deve essere un tema centrale delle politiche sanitarie e del nostro impegno quotidiano. È nostro dovere in qualità di rappresentanti delle istituzioni arginare e contrastare il gioco d'azzardo, questa dipendenza senza sostanza investendo in adeguate misure di informazione e prevenzione. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Cicala intervenendo al webinar Gioco d'azzardo, leggi regionali e giurisprudenza promosso da Avviso pubblico, l'associazione nata nel 1996 per riunire gli amministratori pubblici che si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica e dalla conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome. Il Consigliere del Movimento 5 Stelle Leggeri segnala, auspicando l'intervento dei Presidenti di Regione e Provincia, il degrado che caratterizza la frazione di Gaudiano Di Lavello e parla di segnaletica risalente a 40 anni fa decine di cani randagi, immobili abbandonati, tombini saltati e pericolosissimi per pedoni e automobilisti. A quanto pare, dice, l'elenco dei fabbisogni delle strade provinciali non sta tenendo conto delle arterie dell'area nord della Basilicata fondamentali per lo sviluppo economico e sociale. È tempo che anche la Regione Basilicata riconosca alle persone senza dimora il diritto di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie presenti sul territorio regionale. E' questa la finalità della proposta di legge presentata da Cifarelli e Pittella del Partito Democratico. L'iniziativa legislativa ha come riferimento l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Interrogazione di Polese e Braia di Italia Viva sull'avviso pubblico indetto dall'azienda sanitaria di Potenza per assunzioni a tempo indeterminato di autisti di ambulanza. Si penalizzano, dicono, gli operatori che già prestano servizio e soprattutto coloro che a rischio della propria incolumità si sono messi a disposizione durante la fase più pericolosa della pandemia da Covid-19. Chiedono a Bardi di valutare un eventuale intervento affinché vengano posti in essere i procedimenti amministrativi per effettuare i necessari approfondimenti così come richiesto anche dalle organizzazioni sindacali. Per il mondo agricolo pensavo si passasse dalle parole, dalle promesse, dalla retorica ai fatti e alle azioni concrete. Raccolgo l'invito della Coldiretti a discutere delle gravi problematiche che affliggono questo comparto. Così il consigliere Baldassarre che rivendica il fatto di aver reperito da assessore preziose risorse per dare sostegno all'intero comparto agricolo. Se oggi, dice, ci ritroviamo ancora una volta a dover discutere di risorse da reperire o di azioni concrete da attuare dopo la mia fuoriuscita dalla squadra del Governo regionale, si ritiene che le azioni messe in campo dal sottoscritto e sostenute con forza dal Presidente Bardi non si ritengono evidentemente valide. Le denunce sui ritardi e sui disagi addebitabili alla prenotazione delle prestazioni mediche costituiscono una triste realtà, una regola, da tempo una abitudine quotidiana. Tutto questo non va bene. Gli organi responsabili della criticità e competenti in materia devono intervenire subito con provvedimenti risolutivi. Lo afferma il consigliere di Fratelli d'Italia IV, per il quale il Centro Unico di Prenotazione Regionale deve riprendere subito a funzionare. È tutto, grazie per l'attenzione, l'appuntamento e per la prossima edizione.